La società responsabile è stata al centro dell'incontro del Vescovo e la comunità cristiana con le associazioni sociali ed economiche ad introdurre la mattinata Gabriele Darpetti, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e il Lavoro che ha sottolineato l'importanza di questo incontro che si inserisce nell'itinerario iniziato a giugno 2013 con il primo appuntamento dal titolo L'impegno nel presente e lo sguardo sul futuro. La parola è poi passata al Vescovo Armando. Tutti gli attori sociali e gli attori economici hanno una responsabilità specifica nel loro ambito di impegno ma insieme hanno anche una responsabilità comune, quella di trovare ogni forma possibile per riuscire a lavorare insieme. Certamente, ha sottolineato il Vescovo, la prima forma di responsabilità è quella di fare bene il proprio lavoro o di assolvere con diligenza al proprio compito. Il Vescovo si è poi soffermato sull'importanza di recuperare una visione collettiva, la dimensione del noi. Alla crisi della visione collettiva ha di certo contribuito anche la crisi dei corpi intermedi cioè di quei soggetti che trasformavano la sommatoria di interessi particolari e parziali in interessi collettivi che costruivano il bene comune. Oggi c'è una voglia di comunità, un'ansia di recupero di questa dimensione in maniera nostalgica ma non si mettono realmente in campo i valori necessari a recuperare il senso di comunità. Quindi l'appello è quello di recuperare la dimensione del noi, di uscire dalla logica dell'io e recuperare la cultura dell'altro. Tanti sono stati temi trattati dal Vescovo nel corso di una mattinata ricca di spunti di riflessione dal welfare al lavoro femminile alla responsabilità degli imprenditori. Ciò che mi preme evidenziare è che una nuova economia nasce da una nuova impresa, un'impresa vissuta come bene sociale e non solo come bene economico. Allora la sfida è scoprire l'impresa come soggetto che produce efficienza e solidarietà che mette al centro la persona capace di realizzare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il Vescovo non ha voluto tralasciare due tematiche quanto mai attuali importanti, i migranti e la nostra responsabilità verso il creato. È evidente che siamo un popolo in declino nella misura in cui non riusciamo ad appassionarci più al destino degli altri popoli. Pensiamo all'evoluzione ma sarebbe meglio dire all'involuzione che abbiamo avuto in questi anni in cui ci siamo sempre più rinchiusi in noi stessi. Ma che cosa ci è successo? Si è chiesto il Vescovo. Qui veramente ci giochiamo la nostra credibilità umana prima ancora che quella cristiana. Non potevo prima di avviarmi alle conclusioni, ha sottolineato il Vescovo, non trattare il tema del rispetto dell'ambiente, sia per il recente messaggio dei Vescovi per la giornata del creato che celebreremo tutti insieme quest'anno, il primo settembre da pecchio, sia soprattutto per la prima enciclica di Papa Francesco dedicata appunto a questo tema. Nel messaggio della Ceci è innanzitutto l'appello a ciascuno di noi a rinnovare l'impegno per la custodia della Terra contro le tante minacce ad essa rivolte. Ciò comporta ripensare il nostro modo di abitare su questo pianeta splendido e fragile e riscoprire una sapienza dell'umano capace di amare la Terra per abitarla con sobria leggerezza.